E' adesso una buona notizia che ci porta a Milano dove si viaggia su un nuovo treno che però è realizzato in Campania. Antonio Forni Il nome è completamente milanese ma il cuore è tutto campano perché è progettato e realizzato nel Casertano a San Nicola alla strada il Meneghino, il nuovissimo treno che viaggia sui binari del metro milanese. Non solo, con l'azienda casertana Firema ha collaborato l'ansaldo Breda di Napoli ed è una notizia più che buona in tempi di crisi e di produzione industriale rallentata. E con il Meneghino viaggia anche tanta innovazione, vagoni open space per 1200 passeggeri, sistemi di sicurezza e frenatura all'avanguardia nel mondo anche sotto il profilo ambientale, videosorveglianza nei vagoni con possibile collegamento con le forze dell'ordine, treni che l'anno prossimo viaggeranno anche sui binari della Campania e del Lazio.